L'era della criptoarte è iniziata, una rivoluzione artistica da milioni di dollari, pardon, anzi di criptovalute, che sta offrendo inedite opportunità ad artisti, collezionisti e professionisti del mondo dell'arte, ma non solo. Dopo il battesimo di Christie's e la vendita milionaria del primo NFT in asta, anche il sistema dell'arte tradizionale sta entrando in questo mondo. Ma cosa sono gli NFT? Che differenza c'è tra arte digitale e criptoarte? Quali sono le criticità e le possibili occasioni di questo mercato? Queste sono solo alcune delle domande alle quali troverai risposta nel mio nuovo libro, Criptoarte, per svelare le dinamiche che regolano il mercato, le opportunità e gli ostacoli da superare per operare con successo nel mondo della criptoarte. Criptoarte